Continua il piano di asfaltature, questa volta viene toccata un punto cruciale della città di Fano. Sì, perché la rotatoria di via Cavour del borgo via Giordano Bruno, quindi un posto centrale per la città di Fano e dunque abbiamo deciso come ufficio tecnico di asfaltarla durante la notte, durante le ore serali per non portare danno alla viabilità perché purtroppo in quella rotatoria arrivano sia l'uscita della superstrada sia l'attraversamento della città e quindi anche oltre alla viabilità interna in relazione anche al fatto che c'è l'ospedale, il centro storico e quindi non possiamo fare altrimenti che asfaltarla di notte, è rovinata anche da lavori di Aset che ha riqualificato l'acquedotto quindi dobbiamo farlo e dunque abbiamo deciso sia la notte del 26 che la notte del 27 di chiudere, di fare lavori e di chiudere quindi la viabilità in quel tratto di strada che ovviamente è molto delicato e per questo che consigliamo chi deve attraversare la città di Fano di passare attraverso gli interquartieri arrivando da nord attraverso gli interquartieri, mettersi in via Pertini, dunque arrivare alla rotatoria di Sant'Orso prendere via Papiria e andare verso via Mattei, quindi verso l'ex zuccherificio fino a Marotta e viceversa ovviamente invece per la viabilità locale ovviamente si troveranno dei disagi, delle interruzioni locali in particolare sarà chiusa via Le Gramsci tra via Cavour e via Malagodi sarà chiusa via Montegrappa all'accesso della viabilità ordinaria sarà chiusa via Palazzi tra via Negusanti e via Montegrappa e quindi di conseguenza via Giordano Bruno sarà chiusa completamente ci saranno delle indicazioni in loco però ovviamente invitiamo la popolazione nelle notti del 26 e del 27 aprile dalle ore 20 alle ore 6 a causa dei lavori a informarsi e prendere anche una viabilità alternativa ovviamente tutte le segnalazioni saranno fatte in loco e sicuramente crediamo che avendo fatto i lavori di notte il disagio sarà molto contenuto ma soprattutto dopo il 27 avremo una rotatoria che è quella principale della città di Fano bella asfaltata e a breve anche la segnalettica decorerà questa intersezione veramente molto importante per la città di Fano